ciao amici finalmente in alto adige scusate il fiadone ma veniamo da giù dalla valle ho camminato un bel pezzo stiamo andando a vedere se ci sono i finferli funghi finferli o galletti quello davanti a mio marito adesso lo raggiungo stamattina abbiamo trovato ciao vittorio diversi porcini in un altro bosco poi metterò su insieme tutti i videoclip e ci farò un bel video che adesso dovrebbe dovrebbe aprirsi scusate ma è fatica per me siamo arrivati ieri quindi non ho avuto il tempo di acclimatarmi che subito siamo partiti vediamo se si vede la macchina giù giù c'è rio bianco abbiamo lasciato la macchina nell'ultima casa ecco io la vedo la macchina beh voi non potete riconoscerlo certo ok amici continuo ci vediamo presto per un altro video ciao a tutti ciao ciao